Un saluto amici di Sien Auto, ben ritrovati da AutoJet, inviattorino 126 a Ciriè. Quando si parla di AutoJet non può che rispondere, presenta l'appello Derek by Macho Derek. Ciao Vittoria e un bentrovato a tutti voi. Attenzione perché AutoJet cambia di facciata e non solo, si parla di un abito cucito su misura. Esatto Vittoria, nuova parte esterna, nuova immagine di marca. Per AutoJet, concessionario ufficiale Citroën e Peugeot. E allora oggi sapete cosa vi porto a vedere? Dici. Qualche veicolo Peugeot e qualche chicca di gamma Citroën. E poi andiamo nel cuore pulsante della concessionaria, l'officina. Partiamo subito. AutoJet è nuovo concessionario per il marchio Peugeot. E se parliamo di Peugeot non possiamo non parlare di Peugeot 3008. L'ultima arrivata, la regina di casa Peugeot. Disponibile in versione Hybrid o in versione 100% elettrica. Con i suoi oltre 500 km di autonomia. La Peugeot 3008 qui all'AutoJet la potete trovare in pronta consegna. E potete anche fare un test drive su strada. Venite perché ve la faccio vedere anche all'interno. Sembra di entrare su un'astronave. Peugeot 3008 al suo interno presenta uno schermo da 21 pollici. Con ulteriore schermo sempre touch per gestire tutte le sue funzionalità. Signori, è uno spettacolo. Dopo avervi fatto vedere la regina di casa AutoJet e la Peugeot 3008. Vi voglio far scoprire la reginetta di casa Citroën. Nuova Citroën C3 che è disponibile in versione benzina o in versione 100% elettrica. Nuova Citroën C3 ha un prezzo incredibile. Parte da 11.990€ oppure da 49€ al mese. Citroën C3, la nuova arrivata in casa Citroën. Tutta la gamma Citroën qui all'AutoJet in pronta consegna. Citroën C5 Aircross, Citroën C4. Attenzione perché sul pronta consegna gli sconti arrivano fino a 10.000€. Prima di salutarci vi abbiamo portato qui nel cuore pulsante di AutoJet, l'officina. L'assistenza autorizzata ufficiale per i marchi Citroën, Peugeot, Opel di Errevo. Qui è dove avviene la manutenzione ordinaria e straordinaria della vostra vettura. Il cambio dell'olio, dei filtri e non solo, anche delle gomme. Anche delle gomme perché vi ricordiamo, avete tempo fino al 15 novembre per cambiare le vostre gomme e mettere su quelle invernali. Che cosa aspettate? AutoJet vi aspetta. Via Torino 126 a Cirie. Derek Baima, grazie mille. Grazie a te Vittoria e ciao a tutti voi.